Salve a tutti ragazzi, sono Zetawillix e oggi sono qui con un nuovo video in cui vi mostrerò come fare soldi molto facilmente su GTA Online per Next Gen, sia per PS4 che per Xbox One. Purtroppo questo metodo non funziona su PS3 e Xbox 360 perché appunto adesso vi mostrerò un'opzione che appunto sulle console Old Gen non esiste. Detto questo, prima di cominciare vi ricordo di lasciare un mi piace anche perché ci vogliono solamente due secondi mentre te lo vado parecchio. Se non l'avete fatto iscrivetevi e direi che possiamo cominciare subito. Ok cominciamo subito, allora per prima cosa dovete connettervi a GTA Online in una qualsiasi sessione, una volta fatto ciò dovete avere una crew, quindi mi raccomando trovatevi una crew. Se non riuscite proprio a trovare una crew potete entrare nella mia, metterò il link in descrizione. Premete start, poi andate su online, sempre dal menu pausa, dovete andare su elenchi partite e poi su sfide e quindi quando siete su sfide adesso vi spiego cosa dovete fare. In questo caso, nel mio caso, io ho avviato la sfida GTA di un certo GTA V Paradise 13 però potrebbe essere che voi non troviate la mia stessa sfida. Cosa dovete fare? Dovete trovare quella sfida che abbia un precedente penale e che abbia un miglior tempo di 2 minuti e tipo 20, una cosa così, in su. Da 2 minuti e 20 in su, inoltre i soldi devono essere dai 100.000 dollari ai 200.000 dollari, ovviamente più sono meglio è. Dovete stare attenti perché ovviamente dovete scegliere un buon tempo e solamente una gara dove c'è solamente un precedente penale. Come vedete infatti nel video mi sono incappato, tra virgolette, in una sfida dove appunto avevano 4 precedenti penali, infatti non l'ho fatta. Invece poi ho trovato una sfida con un precedente penale che si chiama GTA, se la trovate avviatela perché quella al 100% funziona. E lì appunto come vedete quella sfida che ho scelto ha una gara, se vinci vinci di 250.000 dollari e inoltre aveva anche un tempo davvero esagerato che con calma potete battere. Dovete scegliere appunto un buon tempo e solamente un precedente penale. Se proprio non riuscite a trovare nulla cercate almeno di trovare quelle gare con un tempo tipo esagerato, cioè troppo lungo che voi potete battere facilmente, che comunque sia con una buona somma che possiate vincere dalla scommessa. E non importa che gara sia, però ovviamente se trovate precedenti penali è molto meglio, voi cercate. Se, vi ripeto nuovamente, trovate la sfida GTA di questo GTA V Paradise 13, allora quella lì va benissimo al 100%, è molto facile come vedete dal video. Mi sono scontrato anche due volte e quindi appunto sarà molto facile vincere questa gara, davvero potete andare diciamo tra virgolette un po' con calma. Senza però dormire troppo sugli allori perché ovviamente poi finite di perdere se andate troppo lenti. E una volta che appunto avete finito la gara, cioè insomma, prima cosa è che dovete avviare, come avete visto dal video, dovete avviare la gara da soli senza cambiare le impostazioni. Quindi una volta fatto ciò avviate la gara, gareggiate, fate questi 5 giri e quindi una volta appunto finite questi 5 giri vi comparerà appunto la scritta vincitore. All'inizio vi dirà che avete vinto pochi soldi, però se andate sempre avanti, mettete mi piace o non mi piace l'attività e poi cliccate ancora su continua, appunto ci sarà quella transizione dove il personaggio esulterà nuovamente, quindi vi dirà che appunto la sfida è stata completata aggiungendovi al acconto 500.000 dollari. Quindi sono 250.000 dollari che avete scommesso più 250.000 dollari che avete vinto da quella sfida. Purtroppo ragazzi l'unica pecca di questo, possiamo dire, trucchetto, oppure che ne so, sfida, è che la potete fare solamente una volta al giorno e quindi non più di una volta al giorno purtroppo. Però devo dire che è un'ottima cosa per essere facile, ecco, perché sono 250.000 dollari al giorno e direi che non sono per niente pochi. Niente ragazzi, detto questo per favore lasciate un piace, ci vogliono solamente due secondi a cliccare quel bottone blu. Lasciate un mi piace alla pagina Facebook, se vi vale la troverete in descrizione, rispondo sempre ai vostri messaggi privati appunto nella pagina. Ed infine se non lo avete fatto iscrivetevi, non ve ne pentirete per altri contenuti. Da ZWheelX è tutto, al prossimo video! Grazie! 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 Grazie!